Quali sono i diversi tipi di esercizi di paralisi cerebrale? La paralisi cerebrale è una malattia del cervello che può causare problemi di sviluppo sia intellettuale che fisico. Questo disturbo può essere congenito, in cui un bambino nasce con un danno cerebrale, o il danno cerebrale può verificarsi poco dopo la nascita. Il trattamento per questo disturbo include in genere i farmaci per controllare i sintomi come gli spasmi muscolari e la chirurgia per trattare i problemi muscolari e nervosi. Una delle più importanti sfaccettature del trattamento per la paralisi cerebrale è la riabilitazione fisica, che include vari tipi di esercizi di paralisi cerebrale per migliorare le condizioni del corpo. Gli esercizi per la paralisi cerebrale tendono a concentrarsi sulla costruzione di uno o più dei seguenti attributi fisici, forza ossea, flessibilità muscolare e gamma di movimento, salute del sistema cardiaco e circolatorio, resistenza e forza. Qualcuno con paralisi cerebrale può utilizzare vari tipi di esercizio in base alla sua attuale capacità e ai suoi obiettivi di esercizio. Ad esempio, non tutti gli individui possono stare da soli e altri hanno capacità fisiche sufficienti per camminare, correre o salire le scale. Quasi chiunque abbia una paralisi cerebrale può eseguire esercizi di stretching di base, sia seduti che in piedi. Le persone che hanno problemi con gli stiramenti possono usare lo stretching assistito, in cui un fisioterapista, un membro della famiglia o un caregiver aiuta ad estendere e flettere gli arti. Lo stretching assistito è un comune esercizio di paralisi cerebrale che i genitori possono utilizzare per migliorare la flessibilità nei bambini e nei bambini. Diversi tipi di esercizi di paralisi cerebrale possono aiutare a migliorare l'idoneità cardiovascolare per le persone che non sopportano o camminano senza assistenza. Uno di questi esercizi è l'uso di un ciclo di braccia o gambe, che può essere fatto all'interno o all'esterno utilizzando attrezzature fisse e semiportatili. Questo tipo di esercizio è ideale per le persone con paralisi cerebrale perché migliora la forza muscolare e la salute cardiovascolare, e perché può essere fatto stando seduti su una sedia che fornisce il supporto necessario. Le persone con paralisi cerebrale che hanno sufficiente mobilità e forza potrebbero essere in grado di camminare, fare jogging o salire le scale per fare esercizio. Questo tipo di esercizio aiuta a promuovere la forza e la flessibilità muscolare, migliora il fitness cardiovascolare e migliora la circolazione. Questo tipo di esercizio richiede una quantità significativa di forza fisica e capacità e non è adatto a tutti. Indipendentemente dall'entità delle capacità fisiche, la danza può essere una forma eccellente di esercizio, perché sia la danza seduta che quella in piedi possono migliorare la forza, la flessibilità e il controllo muscolare. La danza può aiutare ad aumentare la motivazione dell'esercizio e fornire benefici fisici, specialmente per i giovani con paralisi cerebrale. I bambini spesso trovano la danza piacevole e i genitori possono fornire oggetti di scena come palloncini, nastri e persino costumi per rendere divertenti gli esercizi di paralisi cerebrale basati sulla danza. Gli esercizi acquatici sono ideali perché consentono all'individuo di allenarsi in un ambiente che riduce lo sforzo sulle articolazioni e sulle ossa. Il nuoto e altre forme di esercizio dell'acqua aiutano a migliorare la flessibilità del corpo e sono un buon modo per incoraggiare diversi tipi di movimento, specialmente nei bambini. Un particolare vantaggio degli esercizi di paralisi cerebrale acquatica è che, mentre si è in acqua, non c'è il rischio di cadere o di subire lesioni a causa di movimenti irregolari dei muscoli o degli arti. I dispositivi galleggianti possono essere indossati per garantire che il nuoto sia un'attività sicura e che i bambini debbano essere sorvegliati in ogni momento. Un aspetto particolarmente benefico degli esercizi di paralisi cerebrale è che a volte un buon programma di esercizi può ridurre la necessità di farmaci o interventi chirurgici. Questo perché qualcuno con paralisi cerebrale può ottenere maggiore forza, flessibilità, controllo muscolare e altri benefici. In alcuni casi, questo potrebbe significare che sono necessari meno farmaci per controllare i sintomi, o anche che solo i farmaci possono controllare i sintomi in un caso in cui la chirurgia potrebbe essere stata altrimenti richiesta.